Partite! Semua dovrà fare l'elastico avendo in scia Angel Fire, poi l'Aquila d'Oriente che lascia in coda a Bye Bye Norma. In avanti aumenta il vantaggio del primo due. Erolika Best seguita da vicino però da Dyliss Doter. Più ampio il margine che dovrà cucire adesso Semua che è sempre in scia Angel Fire in giubba gialla e nera Per via interno poi avanza Bye Bye Norma su Aquila d'Oriente giubba blu con le palle gialle. Dyliss Doter nel frattempo se ne sta proprio in scia di Veronica Best e non muovono ancora gli altri 4. Semua Angel Fire all'interno Bye Bye Norma e allargo Aquila d'Oriente. Schema decisamente particolare in questa corsa. Veronica Best, Dyliss Doter, sempre nette rispetto alle altre 4. Con Dyliss Doter che viaggia virtualmente insieme alla sua avversaria mentre le due stanno andando al completamento della piegata. Semua sta cercando di ricucire lo strappo mentre l'Aquila d'Oriente muove all'argo di Angel Fire Bye Bye Norma che chiude. Dyliss Doter va ad affiancare Veronica Best. Semua che si avvicina gradualmente e poi Angel Fire all'argo di tutti l'Aquila d'Oriente che prova a intervenire ma è dietro al 400 passata facile rispetto a Veronica Best e Dyliss Doter che deve fare i conti con il ritorno di Semua che sta guadagnando metri. Anche l'Aquila d'Oriente si sta impegnando all'argo di tutti. Dyliss Doter in vantaggio. Semua che va ad attaccarla severamente. Le due se la vanno a giocare con Semua che insiste su Dyliss Doter. La sopravanza di slancio. Semua che viene a regolare vincendo nettamente il mot calciata in barba ai chili su Dyliss Doter. Veronica Best, Aquila d'Oriente, Angel Fire e Bye Bye Norma. E' un vittorio di Semua che si deve continuare a rendere un successo per il team Incolins Certo, Pion Antonio Convertino in sella per Raffaele Le Diondi al 3. Pion Antonio Convertino E' riuscita a Pion Antonio Convertino sono riuscita a staccare le avversate 8.59 la